E oggi cercheremo di capire come prenderci cura proprio della nostra pelle quando fa così caldo, quindi i primi suori proprio di aprire. E lo facciamo insieme appunto alla nostra dottoressa, eccola qui, Marcella Ribuffo. Buongiorno, bentornata ad Uno Mattina. Allora, questo tempo insomma ci mette un po' in difficoltà perché è un po' birichino, allora in questo caso come dobbiamo proteggere la nostra pelle? Noi dobbiamo essere pronti a cambiare le nostre abitudini perché immediatamente ci possiamo trovare per esempio con un sole molto aggressivo come è successo in questi giorni, delle temperature molto elevate, quindi è bene che siano tutti pronti per proteggere la nostra pelle. Tutto quello che noi possiamo mettere in campo dai filtri solari agli indumenti, cappelli, occhiali, perché ricordiamoci che il cuoio capelluto va protetto come il resto della nostra pelle, così come gli occhi vanno protetti. Quindi è molto importante anche gli indumenti. Ecco, questo è molto importante. Vediamo la seconda domanda perché non abbiamo preso il sole per diversi mesi e quindi dobbiamo preparare anche la nostra pelle a queste giornate così calde, a questo sole così forte già ad aprile. Certamente. Cosa facciamo? Dobbiamo utilizzare degli integratori che noi dermatologi consigliamo proprio per preparare e rafforzare la nostra pelle per lo scontro con il sole e chiaramente utilizzare dei filtri solari che vengono sempre indicati a secondo il nostro tipo di pelle. Dobbiamo cambiare anche le nostre abitudini cosmetiche. Non usiamo più le creme invernali, possiamo utilizzare per esempio i gel a base di acido ialuronico e anche la nostra dieta, frutta, verdura, dieta mediterranea di base. Quindi idratarsi, no? E' un detox per la nostra pelle e il nostro organismo. Ecco, prossima domanda. Quali sono i tipi di pelle più sensibili e che devono fare maggiormente attenzione poi ad esporsi al sole? I fototipi chiari che sono quelli che si scottano sempre e non si abbronzano mali, persone che hanno familiarità per melanoma, persone che fanno terapie con antipertensivi, antidepressivi, patologia autoimmune, quindi chiedere sempre al proprio medico se ci può essere un'interferenza fra farmaci e sole. Ecco, altra domanda. Dopo aver quindi conosciuto che tipo di pelle abbiamo, a questo punto, insomma, che tipo di prodotti dobbiamo usare per proteggerla? Sempre i filtri solari. Noi consigliamo di utilizzare delle alte protezioni e non stare al sole a lungo perché ricordiamoci che anche con una protezione alta noi non possiamo stare più di un'ora e mezza, due ore al sole. Quindi è molto importante poi evitare l'esposizione solare e utilizzare anche questi indumenti che ci possono proteggere. Oggi esistono proprio delle fibre che proteggono dai danni degli UVA. Ecco, prossima domanda. Se abbiamo invece dei nei oppure, insomma, abbiamo delle altre, come si chiamano, gli efili, gli efili. I felidi. I felidi, esatto. Le lentigini. E cosa dobbiamo fare per esporci al sole? Anzitutto una visita specialissima e quella è molto importante per individuare le lesioni a rischio. Non utilizzare i filtri solari sul singolo neo perché il filtro solare va applicato su tutto il nostro corpo, compreso il padiglione auricolare, compreso il naso, il dolso delle mani. Perché si tende delle volte a metterlo sul... Sì, molte persone li usano un po' a pallini che è perfettamente inutile. Quindi quello non aiuta perché il neo non si scotta, siamo noi che non ci dobbiamo scottare. Bene, grazie alla dottoressa Marcella Ribufo per i suoi consigli. Quindi, insomma, cerchiamo di proteggerci proprio dal sole. Tutti pronti.